Musica Buonasera e bentrovati a Intorno alle 9, avvio di stagione per la nostra trasmissione di approfondimento e sono qui stasera con Franco Di Polito, direttore del Teatro Metastasio. Buonasera. Buonasera. Allora, avvio di stagione per Intorno alle 9, ma anche avvio di stagione per il Teatro Metastasio, ma direttore, guai a chiamarla stagione, vero? Si chiama Primo Momento. Sì, si chiama Primo Momento, perché è una stagione particolare, è una stagione segnata da una serie di limitazioni che abbiamo voluto utilizzare in positivo, ma che comunque ci sono. È una stagione che non abbiamo potuto annunciare, come solitamente facciamo, per intero, a giugno, ma abbiamo annunciato il primo pezzo, settembre-dicembre, e annunceremo a fine ottobre il secondo pezzo, gennaio-maggio. Per cui, in un ripensamento complessivo di questo programma abbiamo ritenuto di segnalare anche con la parola che usavamo per raccontare il programma questa diversa normalità e quindi abbiamo chiamato Primo Momento il primo blocco e Secondo Momento il secondo blocco per ricordarci che stiamo vivendo un momento particolare che secondo noi però può essere un momento di grande miglioramento collettivo. Il primo momento ha già avuto avvio con Naufragium da un testo di Sonia Antinori che ha debuttato al Teatro Fabricone. Ecco, c'è stata questa scelta di Polito e del debutto della stagione, anzi del momento, al Teatro Fabricone e non al Metastasio. Perché? Beh, un po' perché appunto questa è una stagione particolare e anche il calendario ha risentito di alcune condizionalità particolari. Ma la scelta di aprire la stagione al Fabricone è perché il Fabricone è stato per tutti gli spettatori che sono stati con noi nelle quattro recite del primo spettacolo di Naufragium è stata una grande sorpresa. è stata una grande sorpresa trovare quello spazio così trasformato e ritrovarlo rosa anziché rosso. Ovviamente sì, perché ricordiamolo, gli spazi sono stati completamente trasformati dalla pandemia non solo il Fabricone ma anche il Metastasio che si presenta come un salotto. Esatto. Chi ha frequentato i nostri teatri durante il Festival Contemporanea li ha già scoperti e ha scoperto appunto un salotto con poltrone e tavolini al Metastasio e un un Fabricone completamente diverso completamente nuovo e rosa silenzioso comodo bello che era esattamente quello che volevamo fare. Cioè volevamo una diversa normalità in cui ci fosse il rispetto delle norme e quindi l'attenzione e la sicurezza ma ci fosse anche la cura e la bellezza. Grazie a questo Phil Rose che abbiamo trovato appunto al Metastasio e al Fabricone. E che troverete al Magnolfi. Certo, in misura ridotta. molto ridotta. Sì, ma perché il Magnolfi è più piccolo. L'ho ricordato lei e noi siamo ripartiti con il Metastasio con il teatro però che era già ripartito con il Contemporanea Festival come è andato? Il Festival delle Arti Contemporanee che ha portato peraltro a Prato compagnie internazionali in un momento in un momento così particolare. Sì, è quello che abbiamo detto con Edoardo Donatini che è il responsabile artistico del del Festival che abbiamo detto quando abbiamo presentato il programma di Contemporanea anche lì noi abbiamo voluto fare un Festival normale di una diversa normalità per l'amor del cielo ma un Festival normale e Contemporanea è sempre stato un Festival che ha raccontato il Contemporaneo non solo italiano ma soprattutto il Contemporaneo a livello internazionale e abbiamo voluto continuare a farlo ci siamo riusciti anche grazie alla disponibilità di diversi importanti artisti internazionali e devo dire che il pubblico c'è stato tanto abbiamo avuto praticamente sempre le nostre sale piene esaurite è anche vero che sono sale la cui capienza è ridotta mediamente di un terzo rispetto a quella normale quindi c'è voglia di teatro direttore secondo me sì ma c'è voglia di stare anche un po' insieme in maniera diversa sicura protetta con le attenzioni del caso ma di tornare anche a emozionarci ad ascoltare storie a scoprire a farci sorprendere dagli artisti che noi continueremo a proporre ecco a proposito degli artisti tra le novità oltre al Phil Rose alla nuova disposizione nelle platee c'è proprio questa che voi avete scritturato come metastagio dieci interpreti continuativamente per otto mesi esatto perché lei quest'estate ha detto non ci possiamo più permettere di sospendere tutte le attività quindi voi avete una compagnia fissa come dire non mi piace anche lì chiamarla compagnia fissa perché non è fissa perché come dire a meno che non vogliamo considerarla la compagnia fissa del coronavirus ma non è assolutamente il caso né ne porta bene direi no è un gruppo di lavoro artistico noi abbiamo chiamato un gruppo di lavoro artistico in cui abbiamo chiesto a dieci interpreti che hanno lavorato con noi in questi anni e che quindi il pubblico conosce che evidentemente si sono trovati bene con noi noi ci siamo trovati bene con loro abbiamo fatto delle cose molto belle insieme abbiamo chiesto a dieci interpreti e cinque registi di costruire un programma di produzioni da ottobre a maggio tutti insieme diversificando le produzioni perché il gruppo di lavoro artistico produrrà cinque spettacoli teatrali che saranno nel programma del secondo momento gennaio-maggio ma produrranno anche uno sceneggiato televisivo in bianco e nero in cinque puntate alla maniera degli anni sessanta che andrà in onda su TV Prato che è media partner del progetto del gruppo di lavoro artistico produrranno una serie di pillole le abbiamo chiamate così pillole video che anche loro saranno andranno in onda sul TV Prato una serie di pillole che in qualche modo speriamo in maniera anche divertente racconteranno la stagione racconteranno gli spettacoli della stagione da punti di vista i più strambi mi pare di capire che il teatro esca dal teatro allora avete aumentato i vostri canali comunicativi abbiamo diversificato proprio pensando perché uscivamo dal dal trauma e credetemi è stato un trauma quando il 4 di marzo noi abbiamo chiuso il sipario sulla prova generale del Macbeth le cose nascoste che avrebbe dovuto debuttare il giorno dopo e ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ok il teatro si chiude chissà quando riapriamo e abbiamo riaperto dopo mesi e quello è stato un trauma è stato doloroso in qualche modo non so come spiegarlo perché sì forse il modo più semplice per spiegarlo a chiunque è quello di dire come quando ti chiudono il luogo di lavoro il luogo di lavoro che ami il luogo di lavoro nel quale stai bene il luogo di lavoro nel quale anche forse ti realizzi te lo chiudono e ti dicono da domani è chiuso e non sappiamo quando si riapre bene rispetto a quel trauma ci siamo detti non cioè dobbiamo inventarci qualcosa prima di tutto perché come abbiamo sempre detto e sempre ascoltato durante il lockdown tutto non sarà più come prima io sono convinto forse non è vero che tutto non sarà più come prima ma tanto non sarà più come prima tante cose saranno diverse e quindi bisognava cominciare a immaginare delle cose diverse no? e tra tra le cose diverse che ci siamo imposti di immaginare c'era anche qualcosa che evitasse quel trauma la cosa più semplice che ci è venuta in mente è stata quella di pensare che dovevamo mettere in piedi un programma di produzione che anche se il teatro chiudeva se ci avessero chiuso il teatro con un lockdown generale territoriale eccetera quel programma di produzione potesse continuare e quindi noi potessimo continuare a usare il danaro pubblico che ci viene affidato per continuare a offrire un servizio culturale ai cittadini e lavoro ai lavoratori chiaro e quindi la televisione la radio perché se ci chiudono noi continuiamo a fare produzione video e produzione radiofonica e il teatro continua continua la cultura continua in città a proposito di continuo il prossimo spettacolo lo ricordiamo sarà al Magnolfi tutta la vita da un'idea di amor va qui io ringrazio davvero il direttore del metastasio Franco Di Polito grazie a voi e ci vediamo in teatro grazie a voi tutti per averci seguito prossimo appuntamento con intorno alle 9 domani sera buona serata ciao